Salute Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Tutti in piedi, tutti in piedi, tutti in piedi, aè, forza l'ora, 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 forza l'ora. bravo, bravo l'orizio, bravo noi stiamo avanti a prima noi stiamo avanti a prima vuoi dire che ci sarà la difesa bassa, non sai via, via via, via via, via via, via via, via via via